Open Day dell'Università dell'Insubria, Giovani e Futuro, le parole chiave. Sono stati circa 300 partecipanti nella sede Comasca e 800 avarese che hanno seguito gli incontri di presentazione delle lauree trennali e magistrali a ciclo unico. 2000 le prenotazioni per le attività, numeri ai quali devono essere aggiunti gli 800 partecipanti del programma online Meet Insubria, che per due settimane ha preceduto la giornata a porta aperte. A Como il prorettore vicario Stefano Serra Capizzana ha accompagnato il sindaco Mario Landrescina nelle due sedi dell'Open Day Chiostro di Sant'Abbondio e Polo Scientifico di Via Valleggio. È un'università piccola in cui c'è un rapporto personale con il docente e questo spiega perché i nostri ragazzi si laureano in media più velocemente che in altre università, i dati ISTAT lo confermano, trovano lavoro prima con una percentuale entro i due anni che è il 20% più alta della media nazionale, ma che si colloca anche al top se uno confronta con l'università lombarde. Hanno registrato il tutto esaurito i corsi di economia, scienze biologiche, biotecnologie, scienza ambientale, informatica, laboratorio di medicina e scienze della comunicazione. Siamo molto seguiti, diciamo che c'è sempre un rapporto anche abbastanza confidenziale tra studenti e professori. Di sicuro ci sono professori che aiutano i propri studenti sin dal primo anno e ci aiutano anche a trovare non solo la confidenza di approcciarci alle nuove materie, ma anche a trovarci bene nel sistema universitario. Open Day delle lauree magistrali a maggio e a luglio un nuovo appuntamento in presenza a porta aperte.